Ciao a tutti, in questo video vado a rispondere a una domanda che è molto gettonata e che è legittima anche da parte vostra, che mi chiedete quanto terreno occorre minimo per produrre zafferano. Allora, non c'è un minimo di terreno che occorre, ci sono due punti però da tenere in considerazione che sono fondamentali. Il primo punto è naturalmente l'obiettivo che avete, anche nei miei programmi, nei nostri programmi, inseriamo sempre come prima cosa il farvi stipulare un obiettivo ben preciso che volete raggiungere, perché sapere dove arrivare ci porta a raggiungere poi la meta desiderata. Quindi, per quanto riguarda l'obiettivo, diciamo che, per darvi dei numeri ben precisi, se volete produrre zafferano a livello aziendale il prima possibile, cercate di fare in modo di avere almeno 5.000 metri quadrati di terreno. Perché 5.000 metri quadrati? Perché in 5.000 metri quadrati, quindi mezzo ettaro, vi bastano per gestire la produzione di un chilo di zafferano per sempre. Che significa? Che utilizzeremo solo una parte di quei 5.000 metri quadrati al primo anno, quando andremo ad espiantare utilizzeremo un'altra parte, eccetera, e così via, fino a tornare al primo punto di partenza. E quindi, con 5.000 metri quadrati, si riesce a far ruotare la produzione di un chilo di zafferano se si fa il giusto tipo di impianto. Con questo, infatti, mi collego al secondo punto fondamentale, che è il fatto che dobbiamo studiare le caratteristiche del nostro terreno e del nostro ecosistema in cui ci troviamo per capire qual è il miglior sesto di impianto che possiamo andare a inserire, e quindi il più efficiente dal punto di vista di resa e di riproduzione del bulbo, per andarlo a effettuare poi all'interno del campo. E quindi, per darvi altre cifre più precise, ad esempio quello che state vedendo è un piccolo terreno che stiamo preparando, e che è circa 100 metri quadrati, e in questi 100 metri quadrati noi andremo ad inserire 10.000 bulbi, che sono già un'ottima produzione, perché 10.000 bulbi al primo anno possono anche rendere 80-100 grammi di prodotto, ok? Che sono già buoni. Naturalmente, se poi volete gestire questa quantità, anche lì dovete calcolare che vi serviranno altri 4, almeno, pezzetti da 100 metri quadrati per farlo ruotare fino al ritorno nel primo campo, ok? E questo è tutto in base, quindi, allo studio che avete fatto. Quindi, per darvi la conclusione, non esiste un minimo, esiste il fatto comunque che è poco terreno, perché non esiste altra coltivazione che con così poco terreno riesce a dare questi quantitativi di produzione, e soprattutto queste possibilità poi di ricavo. Quindi, per ricordarvi bene, praticamente 5.000 metri quadrati è il massimo che vi può servire per gestire un chilo di zafferano, già con 500 metri quadrati si gestisce invece molto bene anche la produzione di un etto di zafferano. Grazie. Grazie.